Benvenuti amanti della psicologia e non. Oggi faccio questo video per spiegare un po' il mio percorso di studi, l'università che frequento, ovvero l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, la quale è un'università telematica, tra le meglio riconosciute, molto abbordabile come prezzi, andiamo subito sul concreto. E io infatti la pago a rate da 180 euro mensili, più al momento dell'iscrizione e mi sembra di aver capito all'inizio di ogni anno ci sono le tasse regionali da pagare e i diritti di segreteria, ma sono cifre che io, lavorando come apprendista impiegata al momento part-time, riesco comunque a sostenere, riuscendo a pagare pure i libri e altre spese mie personali come lo sport, il canto, e altre cosine. Quindi è fattibilissima come università. Certo, è molto tosta da quello che ho potuto vedere in questi due esami, pur essendo un'università telematica, comunque vanno molto nello specifico con gli argomenti trattati e c'è da lavorare, c'è da sgobbare. Nonostante questo è un percorso di studi che io sto trovando meraviglioso. Ho dato due esami da 12 crediti entrambi, psicologia generale come primo ovviamente, e poi fisiologia. Nel primo esame sono stata bocciata, perché per problemi di salute mentale diciamo che non avevo il cervello libero e non ero riuscita a prepararmi adeguatamente, ma lo ridarò il 15 novembre e tra poco vado a studiare. Il secondo esame che ho dato è stato fisiologia e devo dire che sono usciti i risultati oggi, sono molto molto contenta, perché pur essendo stato così vicino al primo esame che ho dato e avendo avuto poco tempo per studiare, sono riuscita a portarmi a casa un bel 25, di cui vado molto contenta e fiera. Niente, se volete informazioni su questo tipo di percorso di studio e su questa università, scrivetemi pure sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!